buon dia a tutti in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo simpaticissimo un maglione che ho deciso di chiamare double pull per quanto riguarda il filato ho utilizzato uno che non avevo mai usato della dmc che si chiama confetti è questo gomitro da 100 grammi che misura 335 metri ed è formato dall'80% acrilico e 20% lana ma stiamo parlando della dmc quindi non di un acrilico pesante duro che punge anzi è un filato molto molto morbido e infatti addosso non solo tiene caldo ma è anche morbidissimo non dà per nulla fastidio il colore che ho scelto io il 550 che ha queste stupende sfumature del rosa ma ho anche altri colori uno più bello dell'altro tra cui uno con cui ero molto indecisa ma alla fine ho deciso di optare per quello però tipo c'è questo qui che tanto mi piace perché ha questo lilla con all'interno il grigio abbiamo questo col begiolino questo con le varie sfumature del blu ma ci sono anche altri colori che trovate sempre sul sito filatielsa ossia il mio sito quindi in descrizione come sempre vi lascerò il link e vi dico anche che per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato 3 gomitoli lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4 per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli per una taglia L vi consiglio 5 gomitoli secondo me anche con 4 riuscireste a farcela ma per essere sicura meglio prenderne 5 perché ho dato il nome double a questa pull e il motivo è semplicissimo come vedete qui sotto io lo tengo con questa fascia aderente che quindi dà questo effetto sopra ma in realtà la maglia si può anche indossare tranquillamente in questa maniera quindi come potete vedere non deve essere per forza aderente qui ma lo potete tirare perché la lavorazione che ho fatto permette appunto di poter allargare e stringere la maglia senza creare alcun tipo di problema quindi se non vi piace che qui vi lasci scoperte ma potete tirarla giù tranquillamente per questo lo decido di chiamare double pull per quanto riguarda la lavorazione questa volta si lavora a pannelli nel senso io sono andata a realizzare prima il pannello qui davanti vedete e poi il pannello dietro che è uguale e poi sono andata a cucirli di lato e sull'altezza delle spalle poi sono andata a lavorare le maniche per le maniche ho lavorato questo punto in rilievo sia da questa parte che da quest'altra parte che è lo stesso punto che ho lavorato per il sotto e che mi permette appunto di indossare la maglia sia in questa maniera che tirandola giù quindi ha questo doppio effetto che trovo carino perché questo è un tipo di modello che si porta molto questo di avere il bordino qua sotto che lasci comunque la pancia un po' scoperta solo che alla mia età soprattutto inizia a fare freddo quindi con la pancia scoperta no e quindi ho preferito comunque poter avere la possibilità di abbassare la maglia se sento troppo freddo quindi potete farlo benissimo anche voi anzi io nel video tutorial vi dico anche come non andare a fare questo stringimento questo effetto molla ma di allargare la maglia in modo tale da poter indossare solo ed esclusivamente dritta detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook uncentando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di uncentare e sferuzzare oppure come sempre mi trovate anche su instagram come Elsa faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della dm ciliana confetti che è questo gomitolo da 100 grammi io il colore che ho scelto il numero 550 che a queste sfumature dell'illa e di un molto tenue bordeaux bordeaux se così vogliamo chiamarlo sia un bordeaux molto tenue perché sono colori comunque abbastanza pastello lavorerò con un cento in numero 4 e andremo a creare due pannelli uno avanti e uno dietro che poi andremo a cucire lateralmente e sulle spalle per creare appunto la nostra maglia poi dopo aver fatto questo andremo a realizzare le maniche con un punto diverso e devo ancora decidere poi se continuare sotto la maglia ma quello lo vedrò man mano che cucirò e lavorerò la maglia detto ciò andiamo a fare il nostro primo pannello lavoreremo noi in giri di andata e ritorno normali ma vedrete che la lavorazione cresce lavorando solo come una sorta di orizzontale quindi andiamo quindi realizzare l'anello magico all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglietta rientriamo dentro realizziamo altre 6 magliette per un totale quindi di 7 magliette quindi una già abbiamo fatta 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 rientro 6 rientro 7 quindi realizzato 7 magliette tiro il filo del mio anello magico e quello che andiamo a fare adesso sono i due giri che vanno sempre ripetuti e che ci permetteranno di allargare la lavorazione quindi mi giro con l'azione o vi alzate con una catenella o rientrate subito come me nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa ne ho fatta una ne devo fare altri due per un totale entrano sempre nelle maglie alte cioè si è per un totale di 3 maglie alte maglie basse 2 e 3 catenella di separazione entro nella maglia alta successiva e realizza una maglia bassa catenella di separazione e vado a fare le ultime 3 maglie basse 1 in ogni maglia alta quindi una due entro nella terza catenella e quindi ho realizzato 3 maglie basse e questo è il primo giro ci giriamo andiamo a fare il secondo giro che consiste realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta andiamo a fare una maglia alta sopra una delle due maglie alte succedono e maglie basse successive quindi una e due entriamo scusatemi tira un po di filo entriamo dove abbiamo la catenella di separazione facciamo una maglia alta nella maglia bassa successiva andiamo a realizzare 5 maglie alte quindi una due tre quattro e cinque una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte successive quindi una due entro nella terza catenella scusate dentro della maglia bassa e vado a fare una maglia alta quindi mi giro e li vado a fare il primo giro però come vedrete adesso andremo a lavorare più maglie basse a non fare la prima maglia bassa e ne andiamo a lavorare altre 5 per un totale quindi di 6 maglie a maglie basse in una due tre quattro e cinque e vedete ho lavorato quindi sopra le tre maglie alte del giro precedente la maglia la maglia alta che avevo fatto dove avevo la catenella di separazione e le prime due maglie alte del gruppo di 5 quindi a un totale di 6 maglie basse catenella di lavorazione vado dove ho la maglia alta successiva realizza una maglia bassa catenella di successo di separazione e vado a fare sei maglie basse una in ogni maglia alta quindi una due tre quattro cinque entro nella terza catenella e vado a fare ultima maglia bassa vedete la lavorazione man mano che cresce verrà in questa maniera quindi cresce in questa maniera quindi ri andiamo a fare il primo giro mi giro con la lavorazione e vado a farino 3 catenelle una due tre una maglia alta sopra le successive cinque maglie a maglie basse per un totale quindi di 6 maglie alte quindi non abbiamo già fatta 2 3 4 5 6 vado dove ho la catenella di separazione vado a fare una maglia alta entro nella maglia bassa successiva e vado a farino 5 maglie alte una due tre quattro e cinque vado dove ho la catenella di separazione vado a fare una maglia alta e adesso vado a fare sei maglie alte un in ogni maglia bassa una due tre quattro cinque e sei e si ricomincia facendo il primo giro vedete la lavorazione cresce in questa maniera questa sarà la lavorazione che crescerà ora per sapere se state facendo giusto dovete vedere che le maglie basse vi aumenteranno ogni giro sempre di tre noi qui ne abbiamo fatte sei adesso ne andremo a fare 9 e se vi ricordate quindi ne avevamo fatte 3 quindi 3 6 9 aumenteranno sempre di 3 quando fate un lato e naturalmente anche nell'altro lato quindi per essere sicuri di questa cosa contatevi sempre maglie basse per vedere di averne per ogni lato 3 in più rispetto al giro al primo giro che di fatto in precedenza di maglie a basse quindi io mi giro e adesso come vi ho detto vado a fare 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e come vedete mi ritrovo nella terza del gruppo di cinque maglie alte catenella di separazione entro dentro a questa maglia alta e faccio la maglia passa catenella di separazione adesso da fare 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 entro nella terza catenella vado a fare la mia nonna maglia alta per maglia bassa e quindi si comincia poi facendo il secondo giro io continuerò mi raccomando vi ripeto per essere sicure che state facendo bene contatevi le maglie basse ogni volta che fate il primo giro dovete averne per ogni lato 3 in più rispetto al giro precedente e continuate così io vi dirò poi qua alla fine quanto fatto grande questo rettangolo e lo farò identico anche dietro e poi andremo a cucire le parti vi dirò naturalmente quando vado a cucire in centimetri in modo tale da lasciare lo scappo libero per creare la manica allora io ho terminato i miei due pezzi mi due pannelli sia quello davanti che quello dietro e ho lavorato i due giri per 22 volte per trovarmi così una larghezza di circa 40 centimetri e per me vanno bene essendo io 80 centimetri di larghezza 82 però quella la maglia tenderà a tirarsi quindi 40 centimetri mi va benissimo visto che comunque voglio che sia aderente adesso posso passare a cucire e cucirò la lateralmente sta partendo da sotto andando sopra lasciando giustamente gli scappi e la parte di sopra cucirò per le maniche e naturalmente vi dirò comunque quanti centimetri ho uscito qui per le spalle e quanto qui lateralmente e poi andrò a lavorare sotto la parte per poter allungare la mia maglia perché come potete vedere comunque è piccola in altezza deve essere una maglia quindi devo andare a lavorare sotto quindi adesso vado a cucire all'unica cosa io per andare a cucire il pezzo dietro vedete va dalla parte opposta il mio alla mia lavorazione qui va dalla parte avanti va dall'angolo sinistro la lavorazione va fino all'angolo destro in alto mentre nella parte dietro ho girato in modo tale da avere la lavorazione che parte dall'angolo si è dall'angolo destro e va salendo fino all'angolo sinistro quindi ripeto io adesso cucirò naturalmente vi dirò quanto sono andata a cucire e poi andremo a far continuare la nostra maglia allora sono andata a cucire i due pezzi e ho cucito per 23 centimetri partendo dal basso verso l'alto in modo da lasciare vi faccio vedere 17 centimetri liberi per fare le maniche e sulle spalle sono andata a cucire 10 centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato adesso quindi possiamo continuare a fare la nostra maglia allora questo è lo scalfo della mia manica lavorerò sempre in un centro il numero 4 mi aggancio sotto mi aggancio qui dove ho la mia prima maglia bassa e vado a fare sempre le 3 catenelle che qui ha con la mia prima maglia alta questo giro lo chiameremo giro base perché sarà un giro che andremo a fare tutte maglie alte in questo caso siamo fortunate perché io da questo lato o le maglie basse quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa e vi farò vedere poi dall'altro lato come andrò a lavorare per adesso procedo così quindi facendo il mio giro base e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa poi arrivata al lato opposto vi faccio vedere come vado a lavorare sono arrivata dall'altra parte vado a lavorare in questa maniera una maglia alta dove ho la maglia alto orizzontale una maglia alta dove ho la maglia bassa e continuo così quindi per tutto il giro base alla fine vi dirò quante maglie alte o e poi andremo a fare il primo e secondo giro che ci serviranno per ripeterlo per tutta la lunghezza della nostra maglia quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro base sto per terminare il mio primo giro il mio scusate il mio giro base e vado a fare una maglia bassissima dove ho la terza catenella e andiamo a fare adesso la nostra lavorazione vera e proprio se il primo giro come sempre oggi vi alzate con una catenella o entrate direttamente fatto una maglia bassa e adesso devo far dire ma tutto in un giro di maglie basse tutte però rilievo sul dietro quindi vedete non entro normalmente ma entro sul dietro del filo dietro e vado a fare una maglia bassa ancora entro nel filo dietro e vado a fare una maglia bassa quindi vado a fare delle maglie basse e rilievo sul dietro e faccio così per tutto il giro ha scusate non mi ha detto io in totale ho 50 maglie alte quindi avrò poi 50 maglie basse e vado a lavorare sempre tutte le maglie il rilievo sul dietro terminato il primo giro vi farò vedere come andare a lavorare il secondo sto per terminare il primo giro ho fatto quindi la maglia bassi rilievo vado a fare una maglia bassissima al terminare la lavorazione il secondo giro consiste in andare a fare le maglie alte sempre rilievo sul dietro quindi va da realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi vado a maglia bassa successiva e come sempre entro dietro e faccio una maglia alte rilievo e continuo così quindi per tutto il secondo giro facendo sempre maglie alte il rilievo sul dietro e ripeterò questi due giri quindi il giro di maglie basse rilevo dietro il giro di maglie basse alte rilevo dietro per tutta la lunghezza della mia maglia e della mia manica scusate e naturalmente vi dirò quanto è venuta lunga una volta fatto ciò vado andrò a decidere come continuare sotto perché in realtà mi piace l'idea di non avere una maglia troppo lunga ma che si vede poi la maglia sotto che esce però devo ancora un po valutare quindi magari farò solo qualche giro lavorando sempre con lo stesso lavorazione che stiamo facendo per la manica comunque in questo caso naturalmente vi farò sapere per adesso vado a fare questa manica anche la successiva e vi tirò quanto è avvenuta lunga ripetendo sempre questi due giri maglie basse e magliate rilevo sul dietro allora ho terminato entrambe le maniche ho ripetuto i due giri per 32 volte terminando però poi con il giro di maglie basse quindi stessa cosa anche quest'altra manica alla fine sotto fatto la stessa cosa quindi il giro base e poi i giri di maglia bassa e magliate rilevo e lo ripetuta per una due tre 4 5 6 7 8 9 10 per 10 volte e poi rifatto la giro di maglie basse la lavorazione così mi si è stretta in modo tale da avere la maglia perché stringe se non volete che la maglia vi stringa quando andata a fare il giro di maglie alte cioè quindi il giro base andate a mettere più maglie alte nel senso dove avete la maglia alta orizzontale invece di una ne mettete due in modo tale appunto da poter aumentare un le maglie e fare in modo che la maglia sotto non vi stringa questo se non volete che la maglia stringa se invece volete che la maglia stringa sotto allora fate normalmente come abbiamo lavorato per la per lo scalfo andata a fare una maglia alta dove c'è la maglia alto orizzontale e una maglia alta dove c'è la maglia bassa ripeto se invece volete aumentare perché non volete che la lavorazione stringa allora andata a fare non sempre perché altrimenti vi si allarga troppo però diciamo ogni quattro andate a fare due maglie alte dove avete la maglia alta orizzontale invece che una sola e poi andata a lavorare semplicemente i due giri detto ciò io poi ho rifinito lo scollo con un giro di maglie basse il rilevo questo perché mi era avanzato un po di filato io ho deciso di utilizzarlo per rifinire il collo e quindi possiamo dire che la maglia è terminata grazie a tutti